Ah, grazie. Senti tu Cosima, abbiamo capito che vuoi iscritti, ma... Cioè, ma fatteli, non c'è bisogno di chiedere iscritti e fare la finta depressa, cioè, io lo dico... Cioè... Fatteli, cioè, che cazzo ti costa? Cioè, ho capito che voi c'entra qualcosa di iscritti per sto video di merda, che veramente... Cioè, raga, ma veramente, questa cosa è da... Veramente, da manicomio! Manicomio!